Ecco qua, allora oggi ho deciso di fare come quelle le star che fanno vedere anche quello che fanno in cucina e sto quindi facendo questo video che poi tra l'altro diventerà più che un vlog, un diario segreto perché a me chi è che mi segue? E vi volevo far vedere cosa sto cucinando oggi, oggi sto cucinando uno stir fry alla mia maniera io spesso lo faccio questo stir fry, che cos'è? Fondamentalmente in una padella si mettono le verdure, io questa volta lo sto facendo di cavolo e basta, di cavolo rosso però ci ho messo della cipolla fresca e normalmente si mettono anche, si mette il cavolo verza, si mettono le carote, i germogli di soia voi potete metterci di tutto la cosa importante per me è che io quando cucino questa cosa metto l'ingrediente principale, più fondamentale che è l'olio ex vergine d'oliva sardo del paese di mia nonna che è Osini, un paesino sardo del centro della Sardegna e poi a me piace sempre mettere anche un po' di vino, in questo caso un vino bianco, un vermentino della Gallura quindi un stir fry molto sardo, più che italiano, proprio sardo adesso lo stiamo facendo appassire così, un po' stufare, aspettiamo e il profumo è ottimo, che ve lo dico a fa'